Salve a tutti ragazzi, qui è la vostra Scarda e oggi siamo qui per parlare di Victor Rosiman che finalmente dopo una lunga trattativa è un giocatore del Napoli a questo record il colpo più pagato della storia del Napoli dopo l'anno scorso con lo Zan adesso quest'anno è Victor Rosiman pagato 47 milioni più Carnesis e altri giocatori della primavera più 10 milioni di bonus quindi comunque in totale c'è venuto a costare di quali in circa 80 milioni però comunque siamo riusciti a risparmiare insomma della Entis che spende tutti questi soldi mi sorprende mi sorprende, soprattutto Rosiman molti non lo conoscevano io l'ammetto lo conoscevo grazie a FIFA che è uscito in diverse versioni diciamo su FIFA è uscito pure Tots però sinceramente FIFA sta proprio in un altro mondo quindi chi si basa, chi dice che Rosiman è forte perché sta su FIFA insomma è un caprone ignorante bisogna basarsi sulla realtà, sulla realtà ragazzi Rosiman ha fatto comunque 18 gol in 38 partite il gol di FIFA c'è da considerare che comunque il campionato italiano è un'altra cosa lui stava comunque nel campionato francese che sembra essere un po' più facile però c'è da dire che Lille ha acquistato 10 milioni comunque ha fatto un salto di qualità un enorme salto di qualità un ragazzo che si impegna a 21 anni, giovanissimo e quindi io spero che comunque con Napoli possa farvi vedere gran belle cose giunto lì lo sappiamo tutti è un grandissimo cioè non sbaglia un colpo le azzecca tutti e quindi per far pagare così tanto Osiman ci sarà sicuramente un motivo ovviamente sarà il campo a parlare però ragazzi io sono contentissimo perché abbiamo rimpiazzato un giocatore che ormai era morto diciamo ovvero Arkadius Milik che veramente era inguardabile non si poteva venire più in mezzo al campo forse andrà da Juve magari poi con Milik si farà un video a parte fatto di assare comunque Victor Osiman è ufficiale e niente io spero veramente perché non posso esprimermi più di tanto in questo video perché comunque come molti di loro non lo conosco proprio bene sono solo alcuni dati che vi ho detto comunque i gol e niente sarà... dobbiamo solo vedere col Napoli si è adatto al campionato italiano e ovviamente tutti sperano di sì perché comunque un giocatore che giocherà penso molte partite l'anno prossimo paghiamo così tanto un giocatore farlo stare in panchina? assolutamente no quindi giocherà sicuramente tante partite e dovrà quindi far giocare bene Napoli e fare tanti gol questo dovrà fare Osiman se farà questo allora saremo tutti felici e comunque i nigeriani lo paragonano a Drogba ma addirittura paragonano a Drogba non lo so potrebbe arrivare a livelli di Drogba non si può mai sapere nel calcio un giocatore può esplodere può fare un salto di qualità e diventare uno dei più forti ma magari diventasse a livelli di Drogba ci farebbe vincere tutto ricordo comunque Drogba ha fatto vincere la Champions a Chelsea nel 2012 e quindi spero che questi nigeriani ne capiscano un po' di calcio perché se fosse così sarebbe una cosa eccezionale e quindi ragazzi il video di oggi termina qui iscrivetevi al canale attivate la campanellina condividete mettete like commentate noi ci ribecchiamo prestissimo con un nuovo video penso proprio stasera post partita Napoli-Lazio vedremo se Immobile batterà il record di Guain sarà una partita importante per questo stasera poi tra l'altro è pure una coincidenza penso proprio una bella coincidenza noi ci ribecchiamo prestissimo con un nuovo video un saluto a tutti dalla vostra scala grazie grazie grazie